Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Le solide basi del campo di alta pressione che da giorni stazione su tutto il bacino del Mediterraneo saranno indebolite in seguito all'arrivo di aria fresca atlantica in quota. I contrasti termici determineranno lo sviluppo di temporali e acquazioni pomeridiani su molte zone interne, andando così a placare l'afa accumulata se nei giorni precedenti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 2 giugno. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nuvolosità in costante aumento dal primo pomeriggio, soprattutto sulla Basilicata, Murge e Daunia, in estensione al resto della Puglia. Possibilità di locali temporali o rovesci su Murge, Valle d'Itria, aree di confine tra Puglia e Basilicata e sull'Alto Potentino, più soleggiato sul Salento. In serata cessano i fenomeni con nuvolosità che andrà dissolvendosi pian piano. Temperature stazionarie ma molto alte per il periodo, sia di sera che durante il giorno, con punte di 30-31 gradi sul Foggiano, Tarantino e Materano interno. Venti deboli variabili con maggiori rinforzi da nord sulle coste adriatiche, mari da calmi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Giulio Gigante, che ha immortalato questo momento magico al tramonto dal litorale di Bari. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.